Musica Bentrovati da Risaro Piccolo. Bruno Tedino prepara la sfida di lunedì sera contro il Cittadella. Il tecnico Rosanero provò un 11 titolare, facendo i conti però con le condizioni non ottimali di Struna in difesa, che nella giornata di ieri ha perseguito il lavoro differenziato in allenamento. A sostituire il difensore sloveno sulla destra ci sarebbe Szemischi, che completerebbe così le parti insieme a Cione e a Belushi. Un'altra sostituzione in vista riguarda la Porta. Rientra infatti Posa, invece al posto di Pomini. A centrocampo prevista la presenza di Iaglialo, Ciocev e Muranski, con la presenza di Rispoli sulla fascia destra e quella di Alesami sulla fascia sinistra. In attacco invece tutto confermato per Coronado e Nestorowski. L'Associazione Italiana Arbitri ha comunicato la designazione arbitrale per il match Palermo-Cittadella, valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie B. A diriggere il match di lunedì 20 novembre sarà Davide Gersini. Il fischietto della sezione di Genova sarà a Quadiuvato e agli assistenti Davide Imperiere di Genova e Marco Scatragli di Arezzo, mentre il quarto ufficiale sarà Alessandro Melleleo di Casarano. Visita speciale allo store ufficiale del Palermo del centro commerciale La Conca d'Oro, dove nella giornata di oggi, a partire dalle ore 18, Aita Melesami e Alex Troikowski incontreranno i tifosi rosa nero. I due giocatori saranno i protagonisti di una sessione di autografi, con tutti i fans presenti nel luogo. I sostenitori che acquisteranno nella giornata di oggi un prodotto ufficiale rosa nero presso lo stesso store potranno usufruire di un accesso al prioritario in vista del match contro il Cittadella. È tutto per questa edizione dell'Isalo Piccolo, appuntamento alla prossima. Grazie a tutti.